Che onore partire per primo! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Vigliate! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Il millesimo è già veterano. Tre, due. Un'altra tre, c'è un'altra tre! È proprio, è proprio! Domattina si va a piedi! Sta calando molto! 99 c'è! 127, 128! 155! Bene! Dai! Ti perdiamo! Dai! Grazie! 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 All'è Gianni! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il numero 63 è l'amico Landucci Claudio, GP Parco Alpeacuane, numero 76 Fedi Claudio, numero 78 Ceccherini Simone, numero 77 Durante Evidio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il numero 126. 126 Mattioni Federico, 115 De Caria. Il numero 129 Costantinos Elena. 134 Di Piace Agnese, 135, Bindi Capriere, 137, Beglioni Capriere, 123, Molinaro Raffaele Detto, 121 De Cesare Caniera, la bionda. che fa con la compagna del Moro. Numero 44 Nicastro Andrea, numero 150 Roberto, numero 151 Rossi Marco, numero 146 Iori Lorenzo. numero 173 Tisario Massimiliano. numero 173 Tisario Massimiliano. numero 181 Hallettino. Il numero 163 Tisario Massimiliano. Panini Moreno, 203 della Maggiora Mattia, il numero suo è il 226, 326 Tobia Giampaolo, 200, 233, Girardi Mandomai, Jacopo, 231, 213 prendiamo di Massimiliano. Le riprese di Sorina Mazzoni che potete rivedere su runner.it. Allora col 2,39 Spinelli Carlo, per la scopa che dice è finita.